Ciao a tutti da Gattomatto8 e dal suo amico Mago Diamanti, vai Fede parla! Ciao ragazzi! Dal mio amico Mago Diamanti vi facciamo vedere il nuovissimo server dove io sono l'admin gattomatto8.ateos.me e praticamente questo video vi farà vedere i comandi di un server i primi comandi sono tipo slash tp gattomatto8 che è il mio nome Mago Diamanti che è il mio amico e vedete che subito verrò teletrasportato poi vabbè il tasto clear slash clear poi scrivi il nome e svolterà l'inventario e poi ci sono altri molti comandi che potete osservare nel video sul command block intanto adesso noi stiamo facendo un survival molto eccitante dove abbiamo già ricavato diversi utensili molto utili anche usando i trucchi abbiamo anche con un trucco chiamato che praticamente dovete scrivere slash enchant poi il nome più poi il nome degli utensili quindi venti poi staccato due vi potenzierà la spada e vi metterà il aspetto di fuoco che praticamente quando date un cazzotto a un animale lo ammazzerà e gli darà fuoco quindi la comodità è anche che avete già la carne già fatta comunque il mio amico Mago Diamanti è già da un po' che gioca a Minecraft e ci divertiamo molto anche con questo nuovo server perché all'inizio avevo fatto fatica a fare questo server ma alla fine con Ateos ce l'ho fatta senza perché praticamente la cosa delle porte del router avevo qualche problema comunque ve lo consiglio il sito è questo qua ecco qua l'ip questo qui il sito è ateos.org slash server poi vi fate l'account e comunque diciamo che è molto funzionale ci sono pochi bug ed è molto veloce allora Fede questo video tutorial lo finiamo qui da Mago Diamanti e da Gatto Matto ciao a tutti saluta Fedex ciao ragazzi ciao a tutti e al prossimo video aspettate che vi faccio vedere l'ultima schermata con Fede ciao a tutti ci vediamo presto anche blocchiamo il video